benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti l'obiettivo è quello di capire come funzionano le classi astratte in java e che cosa sono le classi astratte sono un sottinsieme delle classi che si possono usare in particolari condizioni capita a volte di avere delle superclassi che hanno alcuni metodi il cui comportamento è pensato per essere ridefinito nelle sottoclassi a questo punto non è sempre ovvio il tipo di comportamento che dovrebbe avere la superclasse perché probabilmente non sarà mai istanziata verranno soltanto istanziate le sottoclassi le classi astratte permettono esattamente di andare a risolvere questo tipo di problemi prendiamo ad esempio una classe che si chiama shape che vuole rappresentare le forme geometri che vogliamo poter disegnare sullo schermo una classe di questo tipo avrà probabilmente alcuni attributi ad esempio il colore un metodo per impostarlo che sono comuni a tutte le forme geometriche poi ogni forma geometrica va alle proprie caratteristiche specifiche noi possiamo pensare di definire un metodo draw all'interno della classe shape che permetta di andare a disegnare la forma geometrica sfruttiamo il polimorfismo quindi possiamo avere una collezione di forme che in realtà saranno triangoli cerchi quadrati e quant'altro e andando a fare un'interazione su ciascuno di essi possiamo chiamare il loro metodo draw che sarà ridefinito in ciascuna delle classi quindi ogni classe farà un override il metodo draw con le peculiarità di quella particolare forma geometrica ora se noi utilizziamo il meccanismo delle classi astratte dentro la classe shape non mettiamo nessun corpo per il metodo draw perché perché è difficile andare a definire come disegnare una forma astratta sicuramente è meglio andare a evitare di mettere qualunque cosa piuttosto che andare a scrivere un messaggio d'errore del tipo purtroppo non è stata implementata il metodo disegno per questa forma che dovrei comunque mettere se fornissi un metodo invece andando a dichiarare abstract il metodo in questione non ho la necessità di mettere un corpo un'implementazione per questo metodo e soprattutto vado a obbligare le classi che estendono la classe shape a fornire un'implementazione per questo metodo in generale la regola che quando metto un metodo astratto ne basta anche solo uno devo anche dichiarare astratta tutta la classe cosa significa che questa classe non potrà essere istanziata direttamente non potrà essere istanziata direttamente perché se io per ipotesi potessi creare un oggetto con questa classe di questa classe non avrei nessun modo di andare a creare quello che è l'esecuzione di un metodo draw quindi il metodo draw non può essere chiamato perché non è implementato nelle classi derivate ad esempio circle che estendono il shape avrò un metodo draw che è specifico per il cerchio e che quindi andrà a fare operazioni di disegno ripeto non posso andare a istanziare shape perché è astratta ed è astratta in quanto ha un metodo astratto mentre invece ovviamente posso andare a istanziare circle perché estende quella classe e definisce il metodo draw che invece era lasciato in sospeso nella classe di base il modificatore abstract viene utilizzato per andare a evidenziare che un particolare metodo non è definito e quindi si richiede la sua definizione all'interno delle sottoclassi il modificatore deve essere anche applicato alla classe che abbia almeno un metodo astratto in questo caso quando io ho un metodo dichiarato astratto non vado a mettere nessuna implementazione ma metto semplicemente un punto e virgola andando a indicare che sostanzialmente non voglio dare una definizione quella di la definizione di quel metodo sarà un compito delle sottoclassi quando una classe estende una classe astratta è obbligata a implementare fare un override del metodo o dei metodi astratti presenti nella classe di base se non lo fa cioè non implementa tutti i metodi astratti della classe di base allora deve essere dichiarata astratta essa stessa vediamo un esempio di come possiamo utilizzare questo meccanismo immaginiamo di voler andare a creare una classe sorter che ha un metodo di ordinamento generico andiamo a osservare come è fatto questo metodo il metodo di ordinamento sort sostanzialmente riceve un array di oggetti sfruttiamo la capacità di utilizzare obgette come riferimento universale e quindi possiamo tranquillamente passare a questo metodo qualunque array un array di qualunque tipo poi qui c'è l'implementazione di un algoritmo di ordinamento che tutte le volte in cui il confronto tra il metodo j tra l'elemento j e l'elemento j più 1 dell'array mi dice che j è maggiore l'elemento j maggiore dell'elemento j più 1 allora effettua uno scambio quindi memorizza il elemento j dentro un riferimento temporaneo copia j più 1 in j e poi mette in j più 1 il valore temporaneo è ovvio che questo algoritmo è assolutamente generico e può funzionare con qualunque oggetto string interi quello che volete il trucco è sostanzialmente nell'aver messo questo metodo compare che è in grado di confrontare due diversi elementi restituendo un valore maggiore di 0 se il primo è maggiore del secondo o minore di 0 se è viceversa e uguale a 0 se sono uguali a questo punto il trucco sta nell'andare a definire il metodo compare quindi come lo definisco compare è ovvio che in questa classe che è assolutamente generica io non ho modo di andare a definire l'unico modo che posso immaginare è andare a mettere un messaggio d'errore e andare a restituire un valore che è 0 ma perché non 42 qualunque altro numero per cui quello che possiamo fare invece di andare a mettere un'implementazione fittizia con un messaggio d'errore è quello di andare a dichiarare questo metodo compare come abstract e quindi dichiarare la classe stessa come astratta a questo punto le sottoclassi andranno a definire il metodo compare per alcuni tipi specifici di oggetti ad esempio per andare a confrontare delle stringhe andremo a definire un metodo compare fatto in questo modo quindi io definisco una classe string sorter che è una classe che è pensata per andare a fornire un metodo sorter che ordini delle stringhe che estende sorter quindi avrà un metodo sorter che non mettiamo qua perché è ereditato ma ridefinisce il metodo compare che prende due oggetti a e b fa un downcast e poi fa un'operazione di sa.compare2sb quindi confronta la prima stringa con la seconda utilizzando un metodo che si chiama compare2 che è già predefinito all'interno delle stringhe. A questo punto qual è il trucchetto? Noi abbiamo definito una classe di base con un algoritmo generico di ordinamento, l'algoritmo che abbiamo utilizzato è un bubble sort ma io posso cambiarlo tranquillamente mettere un algoritmo più efficiente e vado a definire un certo numero di sottoclassi che permettono di andare a fare un confronto tra stringhe in questo esempio ma potrei utilizzare interi, potrei utilizzare impiegati, non importa, andrò a definire una serie di personalizzazioni di questa classe che sfrutta il metodo sorter e semplicemente deve andare a definire il metodo compare specifico per un certo tipo di classe. Per cui a questo punto io posso andare a creare un oggetto string sorter a cui passo un array di stringhe che poi posso ordinare. Questo tipo di organizzazione è estremamente generale. Noi abbiamo una classe sorter, nel nostro caso specifico, che ha un metodo generico che implementa un algoritmo di ordinamento ma potrebbe essere un algoritmo di qualunque tipo e questo algoritmo sfrutta alcune operazioni di base che però non sono definite perché devono essere specializzate in funzione di diversi fattori. A questo punto io posso definire una o più classi che estendono la classe di base e semplicemente vanno a definire una possibile variante delle operazioni elementari. Questo tipo di struttura è una struttura molto generale ed è sostanzialmente chiamato un pattern. Un pattern è sostanzialmente una soluzione comprovata per un problema che è ricorrente. In particolare il pattern che abbiamo in questo caso si chiama template method. A quale problema risponde questo pattern? Sostanzialmente ci troviamo in un contesto in cui abbiamo un algoritmo che ha un comportamento stabile ma ha alcuni dettagli che devono essere specializzati ad esempio in funzione del tipo di elementi oppure di varianti dell'algoritmo. Il problema è che cosa devo fare? Se io dovessi fare l'ordinamento di interi, stringhe e tutte le classi che vogliamo dovrei andare a scrivere tanti metodi in cui invece di andare a scrivere un array di stringhe vado a scrivere un array di interi, un array di impiegati eccetera. E quindi dovrei sostanzialmente avere tante copie dello stesso algoritmo in cui vado a modificare soltanto quelle poche righe che fanno il confronto nel caso del nostro ordinamento. Qual è la soluzione? La soluzione è quella che abbiamo già visto, cioè vado a definire il metodo generale dentro quello che si chiama il template method e vado a definire una serie di operazioni primitive come metodi astratti che verranno poi dettagliati nelle sottoclassi di questa classe astratta. Quindi questo è un meccanismo generale che sfrutta lo strumento dei metodi delle classi astratte per andare a definire delle personalizzazioni. Attenzione, io posso andare a utilizzare un template method, quindi questo pattern, questa soluzione è tipica anche in assenza di metodi astratti. Qual è il vantaggio di utilizzare i metodi astratti? È sostanzialmente che chi va a definire una sottoclasse, quindi una classe concreta che estende la classe di base astratta, è obbligato, se questa è dichiarata come astratta, a fornire l'implementazione della o delle operazioni primitive. In assenza della notazione abstract questo obbligo non ci sarebbe, quindi non sarebbe un obbligo forte e garantito dal compilatore dal linguaggio, ma sarebbe un qualcosa che è una pura convenzione, che posso andare a leggere nella documentazione, ma che potrei anche in linea di principio disattendere. Mentre invece utilizzando abstract io ho un vincolo molto più forte che viene garantito e messo in atto dal compilatore quando vado a definire le sottoclasse. Altro esempio di uso delle classi astratte. Immaginiamo di voler andare a rappresentare delle espressioni aritmetiche. Una struttura che possiamo utilizzare per andare a rappresentare le espressioni aritmetiche è quella di un albero. Per andare a costruire un albero posso utilizzare questo tipo di struttura, ovvero una classe di base che rappresenta il nodo specifico dell'albero e due o più sottoclassi che rappresentano il nodo terminale piuttosto che gli elementi intermedi. Tanto per intenderci meglio vediamo cosa vuol dire in termini di esempio. Se io ho l'espressione 6x4 più 3 la posso rappresentare come questa struttura ad albero. Quindi ho un'operazione che è un prodotto che ha due operandi, un valore 6 e il risultato di un'altra operazione più che a sua volta si applica su due operandi il valore 4 e il valore 3. Quindi quello che io posso andare a costruire è un albero di questo tipo. A questo punto per andare a calcolare l'operazione, per andare a calcolare il risultato di tutta questa espressione posso chiedere all'elemento, l'operazione che sta più in alto, di effettuare il prodotto tra l'operando di sinistra che è un valore 6 e l'operando di destra. L'operando di destra a sua volta cosa farà? Per calcolare il proprio valore andrà a prendere l'operando di sinistra e l'operando di destra, farà la somma e lo restituirà. E a questo punto l'operazione che sta più in alto andrà a fare il prodotto tra quello che è l'operando di sinistra e l'operando di destra. Come posso costruire questa struttura? Posso andare a costruire un'operazione prodotto tra due operandi, l'operando di sinistra che è un valore 6 e l'operando di destra che ha a sua volta un'operazione. Operazione che è una somma tra un'operando di sinistra che è un valore 4 e un'operando di destra che è un valore 3. Quindi queste operazioni di new sostanzialmente mi creano questo tipo di struttura d'albero andando a sfruttare queste due classi operazione e valore. Qual è il punto chiave in questa organizzazione? È che quando io ho un'operazione i due operandi possono essere un'operazione a sua volta oppure un semplice valore. Come faccio a trattare questi due casi? Li potrei trattare in maniera completamente separata oppure con questo tipo di struttura dicendo che sia valore che operazione sono delle espressioni posso andare a utilizzare delle espressioni che quindi possono declinarsi in semplici valori oppure in operazioni. A questo punto l'elemento generale della nostra rappresentazione delle espressioni aritmetiche è questa classe espressione che può essere o un valore o un'operazione. L'operazione poi a sua volta avrà due operandi, di quello di sinistra e quello di destra, che sono a loro volta delle espressioni. Avere questo tipo di legame vuol dire che l'operando di sinistra è un'espressione quindi in pratica concretamente può essere un oggetto di tipo espressione, se non fosse astratto, un oggetto di tipo value oppure un altro oggetto di tipo operazione. Quindi questo tipo di meccanismo mi permette di andare a costruire una struttura ad albero che posso ramificare quanto voglio. Per fare questo io vado a definire una classe espressione astratta che ha due metodi astratti, eval e formula. Il primo restituisce la valutazione numerica dell'espressione, il secondo restituisce la formula simbolica della stessa espressione. La classe value, che estende expression, sostanzialmente è un attributo value che è quello che viene restituito quando deve essere valutata, quindi il valore di un semplice valore è il valore stesso. La formula semplicemente restituisce la rappresentazione stringa dello stesso numero. Un po' più complicata è la classe operation, che estende expression, che ha due riferimenti left e right ai due operandi e un carattere che rappresenta il tipo di operazione. La valutazione sostanzialmente fa uno switch su quella che è l'espressione, su quello che è l'operazione che vogliamo eseguire e se è un più restituirà la somma della valutazione dell'operando di sinistra più l'operando di destra, se è un prodotto restituirà il prodotto eccetera. La formula sostanzialmente restituisce una stringa che è data dalla concatenazione della parentesi aperta, l'operando di sinistra, l'operatore, l'operando di destra e chiusa tonda. In questo modo io ho la possibilità di andare a gestire sostanzialmente tutti gli oggetti come delle espressioni, tranne nel momento in cui li vado a creare e quindi vado a creare specificatamente un valore oppure un'operazione più complicata. Questo è un esempio di un altro tipo di pattern, ovvero soluzione comprovata a un problema ricorrente. Qual è il contesto in cui ci troviamo? Siamo nella necessità di dover rappresentare delle gerarchie di tipo parte tutto, dove abbiamo un'espressione che è composta da delle sottoespressioni. Il problema è che normalmente chi utilizza questi oggetti vorrebbe avere la possibilità di utilizzare una interfaccia unica, quindi io non vorrei dover utilizzare metodi o strumenti diversi per andare a calcolare il risultato di un prodotto rispetto a una somma o un semplice valore. E ci sono delle differenze, tuttavia ci sono delle differenze strutturali evidenti, quindi il nostro valore è una classe molto molto semplice, mentre invece l'operazione è un po' più complicata perché ha ancora due operandi al di sotto. Quindi la struttura che di solito viene utilizzata è questa, che strutturalmente è simile a quella che abbiamo visto prima, quindi abbiamo un componente che normalmente è una classe di tipo astratto che avrà alcune operazioni standard che vengono poi ridefinite dalle sottoclassi. Le sottoclassi ricadono in due principali categorie, quelle che si chiamano delle foglie perché sono terminali, quindi nel nostro albero non hanno degli elementi che stanno sotto di loro, quindi nel caso delle espressioni è rappresentato dal valore, e quelle che sono invece delle classi composite, ovvero delle classi che hanno sotto di loro degli altri componenti e questo è il caso specifico dell'operazione che abbiamo visto prima. Ovviamente qui ce ne sono indicate due, ma io posso avere tante classi specifiche di tipo foglia e tante classi specifiche di tipo composito. Quindi in generale quando io devo andare a rappresentare delle strutture di questo tipo, quindi delle gerarchie, la risposta è normalmente andare a utilizzare questo tipo di struttura. Abbiamo visto quindi che possiamo andare a utilizzare il concetto di classe astratta per andare a permettere al compilatore di controllare che alcune classi vengano ereditate nel modo corretto e che venga ridefinito un sotto insieme dei metodi, quelli che sono dichiarati come astratti, garantendo che quello che è l'organizzazione prevista per andare a ereditare una classe di base venga poi rispettata da chi effettivamente scrive queste classi derivate. Abbiamo visto come questo tipo di organizzazione in cui io definisco una classe base con alcune caratteristiche essenziali e poi vado a definire delle sottoclassi che sono molto più specialistiche ma che comunque sfruttano la struttura generale della classe di base si sposa bene con questo tipo di meccanismo delle classi astratte. Abbiamo visto in particolare due pattern che sono delle soluzioni generiche a problemi che sono ricorrenti che sono il pattern composite che è quest'ultimo che abbiamo menzionato e l'altro è il template method che abbiamo visto nel caso della classe è sorta.